Antonio Luciani ci riprova, il sindaco in carica di Francavilla al mare si ricandida per le prossime elezioni, in un clima però che vede spaccato il suo PD. Se da un lato arriva la conferma e l'appoggio alla sua candidatura dalla Regione, manca invece il sostegno della sua giunta, ma la cosa non sembra scalfirlo. Io non lo so che cosa succede, io so quello che farò io, ho già posto pubblicamente la mia candidatura per il maggio 2016, il 6 giugno che è data ancora da confermare, però vi do un'anticipazione, e probabilmente farò una manifestazione in un luogo pubblico, chiamando a raccolta i miei amici e annunciando alla città quello che sarà il programma di qui all'avvenire. Ho ricevuto tanti attestati di stima, per quanto riguarda la questione del PD, è una questione che purtroppo non mi può riguardare, visto che attualmente non faccio parte di questo partito, c'è stata tutta la polemica del mancato tesseramento che molti ricorderanno, quindi io aspetto serenamente le loro decisioni, ma una decisione io già l'ho presa, comunque mi candido, quindi ora tocca a loro decidere da farsi. Grazie.